Nella qualificazione, Cantieri, Pallanza, Alessia Martinelli, Nacqua 1, Nacqua 2, Arolo, Giulia Grandi, Nacqua 3, Nesso, con Viola Longori, Nacqua 4, La Renese, Aurora, Spielli, 5, Durania, Martina, Pampani, Nacqua 6, Laldome da cima, con Giala, con Ancora, Ostenos, Sara, Pinti, e poi, Falco dell'Altenesso, Alice, Pagastelli all'esterno. Sono ancora una lotta, ancora una lotta 2, dicevamo, tra Aurora, Spirito dell'Arenese, Andestero, in Acqua 6, Laldome da cima, ma l'Arenese continua a incrementare, bellissimo in figura, l'aggancio di Aurora, Spirito dell'Arenese, che va a incrementare i propri margini di vantaggio, sul Ben Giala, Ani, attenzione, in chiusura, questo bellissimo vantaggio, porta ora all'Arenese, che riesce in Acqua 4, a festeggiare il successo, con Aurora, Spirito, capace di conquistare l'Arenese, Laldome da cima, Brunzo a chiudere per l'Urania, Martina, Pampani. Bellissimo, arrivo a seguire per l'Urania, sulla carattina di Falco dell'Arenese, Pogliottono, Falati Dutti e tutte le altre attività.